Aspetto. I cani da montagna dei Pirenei, sono tra le più grandi razze canine europee. La loro altezza può raggiungere gli 80 centimetri algarrese. Esternamente, danno l'impressione di maestà e potenza a causa della lana lunga e densa, che conferisce loro la massa esterna. Hanno movimenti potenti e forti, in cui non dovrebbe esserci lassità evidente. Il mantello è bianco o bianco con grigio chiaro, sono ammesse macchie color crema. Per il giudizio dell'esposizione, la preferenza è data ai cani completamente bianchi. La struttura del mantello è fitta, imbottita, con un sottopelo denso ben sviluppato. Sul dorso la peluria è più lunga e più ruvida, dando l'impressione di una setola. Sulla coda, lungo il basso ventre e sulle zampe, così come sul collo, il pelo forma ciuffi ondulati di pelo più lungo e morbido. Tratti caratteriali distintivi. I cani da montagna dei Pirenei, hanno un carattere stabile e forte. Sono equilibrati, non inclini al nervosismo, e al comportamento rumoroso. Nel loro lavoro, sono determinati e padrone di sé, inclini a prendere decisioni indipendenti. Con un addestramento adeguato, questi cani sono adatti al lavoro senza una presenza umana costante. I cani di questa razza hanno un istinto protettivo ben sviluppato sia nei confronti dell'uomo che in relazione alla tutela del territorio. I Pirenei sono attenti con gli estranei, vigili, non inclini al contatto. Allo stesso tempo, non dimostrano aggressività pronunciata. In una famiglia, i cani di questa razza non sono inclini a individuare un proprietario, sono affettuosi e obbedienti verso tutti i membri della famiglia. Sono contatto e amano l'affetto, ma non sono invadenti. A casa non sono inclini ai giochi attivi, il che li rende convenienti da tenere in un appartamento. Questi cani il più delle volte non mostrano interesse per altri tipi di animali. Non sono inclini a contattare i loro parenti, e non mostrano nemmeno aggressività. Quando si addestrano questi cani, è importante tenere conto del fatto che non apprendono rapidamente le abilità, e sono inclini alla testardaggine, quindi è necessario essere pazienti. Quando si alleva un cucciolo, è necessario iniziare presto la socializzazione, e la corretta costruzione dei rapporti tra lui, e i membri della famiglia, poiché questi cani tendono a mostrare comportamenti dominanti. Anche alla fine del corso di formazione, durante il lavoro, i pirenei possono essere tranquilli, molto raramente inclini a mostrare iniziativa. Applicazione. Tradizionalmente, i cani da montagna dei pirenei, sono stati usati come guardiani e pastori. Inoltre, sono sempre stati usati per proteggere sia le mandrie che le case. Inoltre, questi cani venivano utilizzati durante la caccia alla selvaggina di grossa taglia come cani da salamoia, e come animali da tiro per il trasporto di merci. Ora sono ancora usati, come tali e sono anche usati come cani da ricerca. Sono anche diventati popolari per essere tenuti come cani da compagnia. Il cane da montagna dei pirenei, è una razza francese di bovini e cani da guardia. Formata nella regione montuosa della Francia, appartiene alle razze canine aborigine. Un altro nome per la razza è Great Pirenees. Al momento la razza è riconosciuta in molte federazioni cinofile. Punti salienti e fatti interessanti. Il Great Pirenees è stato riconosciuto dall'AKC nel 1933, ed è la 91esima razza della razza. Conosciuto anche come cane da montagna dei pirenei il grande cane delle montagne, e le Chiendes Pirenees il cane dei pirenei in Francia. In Gran Bretagna, e nel resto d'Europa è un cane da montagna dei pirenei. Resti della roccia pireneica si trovano nei fossili dell'età del bronzo dal 1800 al 1000. Avanti Cristo. Si ritiene che la razza dei pirenei provenga dall'Asia centrale o dalla Siberia, e abbia seguito la migrazione ariana in Europa. La prima coppia dei grandi pirenei fu portata negli Stati Uniti nel 1824 dal generale Lafayette per il suo amico George Skinner. Storia della razza. I cani da montagna dei pirenei, sono una delle più antiche razze canine europee. Provengono dai cani di tipo molosso a pelo lungo, che arrivarono in Europa nel 200 anni a con pastori nomadi della regione del vicino Asia. Questi cani sono imparentati con razze come il cane da pastore Maremmano Abruzzese, il Kuvas Ungherese, il cane da pastore Pogalianskaya, la Pash, il cane da pastore dell'Anatolia. Inizialmente, questi cani venivano usati da pastori e agricoltori come cani da guardia per proteggere sia le mandrie che le aree residenziali. Storicamente, questa razza di cane, era allevata esclusivamente da contadini. E solo nel 1675 la nobiltà francese ottenne riconoscimento e amore, dopo che il delfino del re Luigi XIV, che amava questi cani, in una delle sue lettere definì i cani da montagna dei Pirenei il cane reale di Francia. Successivamente, i grandi Pirenei iniziarono ad essere utilizzati come cani da guardia nelle tenute della nobiltà francese, nonché come cani da guardia durante le battute di caccia, e per accompagnare le carrozze dei nobili durante i viaggi. A causa della sua popolarità con la nobiltà, durante la rivoluzione francese, la popolazione di questi cani fu significativamente sterminata. Supravvissero principalmente quelle linee di cani, che continuarono ad essere usate dai contadini come cani da lavoro. Dall'inizio del XIX secolo, i cani di questa razza iniziarono ad essere esportati dalla Francia e a diffondersi in altri paesi europei. Nel 1870, il cane da montagna dei Pirenei apparve nella regina inglese Vittoria, dopodiché questo paese divenne il primo in cui i Pirenei furono ufficialmente riconosciuti per la prima volta. Questo accadde nel 1885. In America, questa razza è apparsa all'inizio del XX secolo, quando è stata portata dai coloni dalla Francia. Questa razza è stata ufficialmente riconosciuta dall'American Kennell Club nel 1933. Nella Federazione Cinologica Internazionale FCI, la razza ottenne il riconoscimento solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1955, quando fu adottato il moderno standard di razza. In Russia, questa razza è apparsa e ha iniziato a guadagnare popolarità solo alla fine degli anni 90 del XX secolo. Al momento, in Russia, questa razza è ancora rara. Manutenzione e cura. I Pirenei si distinguono per la loro senza pretese alle condizioni climatiche e di manutenzione. Tollera ugualmente bene sia il freddo che il caldo, il che li rende adatti sia per l'appartamento che per le gabbie all'aperto. In autunno e in primavera, i Pirenei tendono a mutare abbondantemente, durante questo periodo devono essere pettinati giornalmente. Hanno anche sicuramente bisogno di essere tagliati, poiché un sottopelo spesso tende a formare grovigli quando cadono. Per la manutenzione della casa, tale cura sarà sufficiente, tuttavia, in preparazione alle mostre, sarà necessaria un'ulteriore cura dei capelli. In particolare, per mantenere il colore bianco ideale dei cani, molto apprezzato dagli esperti nelle esposizioni, il loro pelo deve essere regolarmente trattato con talco per evitare l'ingiallimento, caratteristico di questa razza per l'abbondante secrezione di leghiandole della pelle. Nonostante le loro dimensioni impressionanti, i Pirenei non necessitano di camminate intense e carichi pesanti. Allo stesso tempo, hanno bisogno di una lunga passeggiata, ma può essere senza fretta, il che rende questi cani comodi anche per quelle persone che non sono pronte per un'elevata attività fisica. Salute. Il Great Pyrenees Club of America ha sottolineato che tutti i cani vengono sottoposti a screening per una varietà di condizioni, che possono influenzare la razza, tra cui displasia del gomito e dell'anca, condizioni oculari, l'usazione della rotula e disturbi neurologici e immunomediati. Questa razza sviluppa alcuni tumori e gonfiore, una condizione pericolosa per la vita in cui l'addome si gonfia improvvisamente e talvolta si torce. Prezzo e come acquistare correttamente. Il costo di un cucciolo di questa razza può variare. Il prezzo è influenzato dal pedigre e dei genitori, dalle loro vittorie, così come dai cuccioli di razza. I genitori devono avere documenti che confermano la razza, così come tutte le vaccinazioni necessarie. Un cucciolo di pastore dei Pirenei economico costa circa 500 dollari. I cuccioli nati da genitori campioni costeranno fino a 1500 dollari. Linea di fondo. Il cane da montagna dei Pirenei, è una grande razza di cane usata come cane da guardia per il bestiame. Da non confondere con il mastino dei Pirenei. Un altro nome per il grande cane da montagna dei Pirenei. Il grande cane da montagna dei Pirenei, è il più grande dei cani da pastore. All'inizio del XX secolo era sull'orlo dell'estinzione, ma la razza fu salvata. Utilizzato per proteggere le mandrie ai piedi dei Pirenei francesi. A casa, un cane bonario con un carattere gradevole. Può occuparsi dei bambini. Non attecchisce in città, è cane da campagna, protettore, guardiano, compagno.